Alle prime luci dell'alba di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Rovereto a Tiene per un'auto che evidentemente è uscita dritta allo stop, ha invaso il plateatico di un bar per poi abbatterne la vetrina. Non si hanno notizie di persone ferite, dato che l'auto col suo guidatore si è poi allontanata. I pompieri del distaccamento volontario di Tiene hanno messo in sicurezza l'area, eliminando tutti gli elementi pericolanti della vetrina del plateatico. I carabinieri hanno iniziato le indagini per individuare l'automobilista che si è dileguato poco dopo l'incidente. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato poco prima delle otto.